Fun! Numbers! Ehi, ma che... La tua perfidia finisce qui! D'accordo, va bene. Avevo intenzione di scaldarmi in ogni caso. Non sai fare di meglio? Patetico. Questo tipo è il più forte che abbia mai affrontato. E quel che è peggio è che sto esaurendo il mio tempo. Beh, eroe, è giunta la tua fine! Suppongo di non aver scelta. Devo finirla. Ora! Qui è dove la giustizia morirà! Beh, è stato divertente finché è durato! Potrai anche distruggere il mio corpo! Ma la giustizia non morirà mai! Onda energetica! GEPITOOO! Me ne andrò lasciandoti un regalo che non dimenticherai mai! Ascolta questa parola! Sempre oltre il limite! Plus... Oltraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Midoriya, il prossimo, sei tu.